Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Splendour 35. V-Box Splendour 35 Estremo, Prestazioni, Gaming Gamer, PC Veloce 4.0 GHZ FX 8350 GTX 770. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.